Sì Presidente, un provvedimento assolutamente importante che ci apprestiamo a votare, un provvedimento come ha ricordato anche l'assessore in commissione quando abbiamo dato parere che era atteso da diversi anni e quindi una tematica che finalmente si sblocca e che consentirà ai lavori per la tratta T3 della metropolitana C di procedere in maniera assolutamente spedita. Quindi poi a margine anche della discussione presenterò un ordine del giorno che riguarda più da vicino il futuro vicino e il futuro un pochino più lontano della metropolitana C, domani tra l'altro con la commissione abbiamo organizzato anche un sopralluogo al cantiere di Fori Imperiali, quindi ci sono tutte le condizioni e i presupposti per andare avanti con questa importante opera fondamentale per la nostra città. Grazie Presidente.